ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube allora ho preparato le dosi che poi mano a mano comunque mi sono aggiustata con i pesi che poi vi metto precisi li trovate in descrizione allora ho messo due uova scusate uno mi si è rotto ma sono uova freschissime sono le mie uova ho montato gli albumi a parte e adesso vado a montare i tuorli cambio contenitore ne avevo messo uno piccolino con l'eritrolo che è un dolcificante naturale a zero calorie zero carboidrati e che non fa male tra l'altro quindi adesso monto bene le uova vado frullo frullo per benino avevo bisogno di un dolce con pochissimi carboidrati poi vedrete alla fine vi dirò quanti sono per una porzione e quindi sono andata a sperimentare questi questi muffin continuo a girare per bianino ci metto il burro sono lì circa 20 grammi un cucchiaio volendo potete anche usare un cucchiaio di olio di girasole questo è lo yogurt pressappoco un cucchiaio di yogurt di che io ho usato il kefir altrimenti uno yogurt bianco con pochissimi carboidrati quindi un cucchiaio non influisce tanto ci metto la buccia del limone che ci sta bene sempre ad ogni dolce ecco qua questi sono i miei limoni non trattati poi ci metto anche un po di cannella così rende li rende un pochino dolci ci metto il pizzico no questa è la vaniglia scusatemi un po di vaniglia poi ci metto la farina di mandorle ok faccio girare un pochino io ho preferito mettere anche adesso la vedete qui vicino poi la metto un po di farina d'avena che non ha tantissimi carboidrati diviso poi se vado a vedere contiene 56 grammi per 100 grammi che diviso per i 20 grammi che metto sono 11 grammi e poi naturalmente va diviso per i muffin che facciamo così magari mi aiuta con la lievitazione ho messo un pizzico di sale poi metterò un cucchiaino di lievito continuo a girare così con le fruste ok adesso metterò il lievito un cucchiaino raso qui se vedete ne avevo messo un pochino di più ma non serve un cucchiaino raso non pienissimo di lievito basta perché non è molto il composto quindi non fate caso alla dose che ho messo adesso perché io poi ho perfezionato praticamente la ricetta e li ho rifatti e aggiungo gli albumi o se non volete fare questo passaggio di montare questi albumi a neve sbattete bene le uova insieme con gli albumi sia tuorli con gli albumi li montate tanto benissimo e quindi saltate magari questo passaggio ok una volta pronti ecco io uso questi contenitori piccolini di silicone vediamo vediamo se riesco a riempirli tutti e 6 ma penso di sì quindi se volete farne di farne di più raddoppiate la dose naturalmente non li riempio fino su li faccio a metà vediamo anche se poi non salgono molto che non crescono molto non importa ho acceso il forno a 165 gradi e vado ad infornare per all'incirca 20 minuti però regolatevi forse anche 30 regolatevi in base ai vostri forni forno ventilato io ho messo ventilato eccoli qua guardate come sono carini sì se mettevo un po' più di impasto magari si alzavano un po' di più ma vanno bene perché vedete si sono sono lievitati un pochino e forse 5 se ne mettevo 5 venivano un pochino più altini ma non importa guardate come sono belli un muffin ha pressa poco 2 massimo 3 di carboidrati quindi non ne ha molti vedete sono morbidi e sono buoni sono anche buoni di sapore li possiamo gustare con una marmellata a zero calorie o con un po' di panna senza zucchero bene amici vi ringrazio della visione ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao